12 anni di reclusione e questa la richiesta al tribunale fratta dal PM di Crotone Pasquale Festa nei confronti della donna accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il giovane di Bologna ridotto in fin di vita dopo un'aggressione subita all'11 agosto del 2022 nel centro di Crotone. La richiesta include anche una condanna a 4 anni e 8 mesi per Andrei Gaio, compagno della donna coinvolta nell'aggressione. Nicolò Passalacqua, l'autore materiale dell'aggressione, è già stato condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con rito abbreviato mentre è in corso il processo d'appello. L'aggressione è stata motivata da uno scambio di persone durante una spedizione punitiva mirata ad un uomo che aveva molestato la figlia della donna sui social media. La figlia è stata messa in prova dal tribunale dei minorenni di Catanzaro mentre l'uomo che ha provocato l'equivoco all'origine dell'aggressione, Alessandro Curto, è stato chiesto il rinvio a giudizio. Il procuratore ha dichiarato che non si possono concedere attenuanti alla donna la quale non ha mai chiesto scusa e ha dimostrato una spiccata pericolosità sociale. Il PM ha inoltre evidenziato la condotta di Gaio definendola un modello che ha incitato Passalacqua a compiere l'atto violento. Le parti civili, inclusa la famiglia della vittima e le istituzioni locali, hanno chiesto la condanna degli imputati ad un risarcimento danni di 1,8 milioni di euro da parte della famiglia di 100 mila euro da parte del comune di Crotone, Bologna e della provincia di Crotone per danni d'immagine.